Come si parla di Expo 2015? Come si parla di visitatori che verranno a un'ora di macchina da Bra, a un'ora di macchina da Ranghe e da Roero, a un'ora di macchina dalla nostra terra che è davvero poco per un turista straniero e noi ne attendiamo davvero tanti, noi pensiamo e stimiamo che tra i 3-4 milioni di visitatori verranno in Piemonte durante il periodo Expo e sono persone che dovranno dormire e dormiranno nei nostri alberghi, mangeranno nei nostri ristoranti, compreranno nei nostri negozi e faranno tanto bene alla nostra economia turistica perché Expo è un evento mondiale. che dopo i campionati di Italia 90 noi in Italia non abbiamo più visto e non vedremo almeno per i prossimi 100 anni.